Musica Un'animità del Consiglio Comunale di Sassera al nuovo regolamento che prevede il riconoscimento dei danni causati ai commercianti dalle lungaggini dei cantieri pubblici. Celebrata a Porto Torres nella chiesa Madonna della Consolata, la Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona della Capitaneria di Porto. Alba Torres ha organizzato una manifestazione dedicata alla disabilità, la testimonial Cecilia Camellini, atleta non vedente. Oro alle Paralimpiadi di Rio. TG di Canale 12, buonasera, ben trovati. In apertura partiamo da Sassari e andiamo a Palazzo Ducale perché dopo il passaggio in commissione anche il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento per il riconoscimento del disagio economico. Subito dai commercianti per i ritardi nei cantieri pubblici. Sarà una delibera di giunta a determinare i requisiti per i contributi. Sì anche dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo Luca Foddai. Tutti d'accordo, il Consiglio Comunale di Sassari ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per i disagi causati ai commercianti dai cantieri pubblici. Il provvedimento, già illustrato una decina di giorni fa in commissione finanze, è adesso in realtà. Martedì scorso l'Assemblea Civica ha trovato un'unica voce e ha detto sì a un testo semplice, come lo ha definito l'assessore alle attività produttive Gianni Carbini, che ha presentato la pratica. Per l'applicazione del contributo sarà necessaria una specifica delibera, nella quale verrà indicata l'area a cui riconoscere i contributi, ma saranno determinati anche altri requisiti. Innanzitutto è richiesta una durata del periodo di disagio che alla data del 30 dicembre dell'anno precedente risulti superiore a 180 giorni e abbia avuto notevoli ripercussioni negative, quali chiusura della strada, limiti alla sosta di auto e al transito dei pedoni, riduzione della visibilità della vettrina. Si potrà cedere al finanziamento tramite un bando e il contributo che rientrerà nel regime dei minimis potrà essere erogato fino a un massimo per impresa di 3.000 euro. 3. I livelli di disagio differenziato, alto, medio e basso. I soggetti beneficiari saranno micro, piccole e medie imprese. Una soluzione già presente in altre realtà comunali. Un atto dovuto ha aggiunto il consigliere di maggioranza Simone Campus, una soluzione che ben si adatta alle situazioni interessate dal cantiere per la pista ciclabile, dove è stato registrato un calo degli incassi superiore al 30%, ha aggiunto Nicola Lucchi. Arriviamo in ritardo se pensiamo che le fonti legislative sono del 90 e del 95, ma adesso ci siamo. Ha fatto presente l'assessore alle finanze e ai tributi Alessio Marras. Sì, infine, anche da Movimento 5 Stelle. E ora invece parliamo di trasporti e di trasporto aereo. La continuità territoriale dal 2017 conserverà la tariffa unica su Roma e Milano per tutti e tre gli scali sardi. Ci saranno delle lievi variazioni nei mesi estivi di luglio e agosto. Il numero dei posti disponibili a tariffa unica, inoltre, varierà a seconda dei giorni della settimana. Tutti i dettagli nel servizio. La continuità territoriale aerea che sarà in vigore dal 2017 al 2021 conserverà la tariffa unica. Le novità sono state illustrate dall'assessore regionale di trasporti Massimo Dejana, ad associazioni di categoria, società di gestione degli aeroporti, camere di commercio e associazioni dei consumatori. Gli aspetti principali della prossima continuità aerea in vigore dal 2017, oltre alla tariffa unica, riguarda anche i posti a disposizione nei collegamenti tra i tre scali sardi e quelli di Roma e Milano, con un numero variabile a seconda del giorno della settimana, di più nel weekend e meno nelle date centrali come il mercoledì. Cade invece la differenziazione per fascia orarie. Un progetto da quasi 67 milioni di euro, dei quali 30 stanziati dal Governo nazionale. Un passaggio ordinario con i portatori di interesse per le ipotesi di intervento riguardanti le linee guida approvate a fine giugno, ha spiegato Dejana. Il nuovo sistema, che agirà sempre in regime di esclusiva per singola tratta, prevede rispetto all'attuale un incremento del numero di posti del 79,8% al 103% nel quarto anno, passando da 4,4 milioni a 5 milioni nel 2021, rispetto ai 3,5 milioni di posti offerti quest'anno. Se attualmente si paga per i 9 mesi di tariffa unica, 37 euro su Roma e 46 su Milano, nei 3 mesi estivi il costo del biglietto può salire anche del doppio. Dalla stagione invernale di 2017, gli adeguamenti per i mesi estivi di punta, se ci sarà una differenziazione, potrebbero non essere superiori ai 10 euro per tratta. E quanto è emerso dall'incontro con l'assessore? Una volta terminata la fase di audizioni con i sindacati, entro dicembre il nuovo schema arriverà in giunta per l'approvazione definitiva. Poi il passaggio in consiglio e quindi con la conferenza dei servizi si aprirà il percorso del decreto ministeriale. E ieri primo dicembre il gremio dei Fabri ha ricordato il patrono Sant'Eligio. Al mattino all'intrego è avvenuto lo scambio delle bandiere tra l'operaio maggiore uscente Fabio Madau e il nuovo obriere Giuseppe Pinna. Sentiamo. Ieri primo dicembre, nel giorno dedicato al patrono Sant'Eligio, il gremio dei Fabri ha rinnovato la sua festa maggiore. Nel Duomo di San Nicola al mattino si è svolta la cerimonia dell'intrego con il passaggio della bandiera dall'operaio maggiore uscente Fabio Madau al nuovo obriere Giuseppe Pinna e la benedizione del parroco Dondino Pitalis. Intorno alle 18 è partita dal Duomo la solenne processione che ha visto la partecipazione degli altri gremi e del gremio dei Fabri di Alghero che tutti insieme hanno accompagnato la statua di Sant'Eligio, detto in sassarese Sant'Alò, vescovo francese vissuto nel VII secolo, patrono anche di orafi numismatici e maniscalchi. Il gremio dei Fabri vanta lo statuto più antico tra i gremi sassaresi. È datato 1521, sebbene l'attività del suo dalizio risalga a prima della stesura dello statuto come testimonia all'atto d'acquisto della cappella di Sant'Eligio in cattedrale redatto nel 1515. La bandiera del gremio è color rosso cremisi e contiene le figie di Sant'Eligio. La divisa dei gremianti è di foggia spagnolesca e si compone di cappa, casacca, pantaloni neri al ginocchio e cappello alla Don Basilio. Il candeliere è di color rosso fuoco, elemento del lavoro dei Fabri. Se la festa grande del gremio è il primo dicembre, quella piccola cade il 25 giugno, data in cui viene nominato il nuovo obriere di candeliere. Anticamente si elegevano i capimastri nel giorno del Corpus Domini, con un sorteggio che si teneva nella chiesetta di Sant'Eligio, che sorgeva fuori le mura, abbattuta nel 1925, per permettere l'ampliamento della stazione ferroviaria. Ed ora la pagina del referendum. Il fronte indipendentista Unidu si schiera per il no al referendum costituzionale. A rischio, secondo gli attivisti, l'autonomia della Sardegna e la libertà democratica di espressione popolare. Sentiamo. Anche il fronte indipendentista Unidu, come altri gruppi che puntano all'autodeterminazione della Sardegna, si schiera nettamente per il no al prossimo referendum. Da indipendentisti e da uomini e donne che amano la libertà, si legge nel comunicato del FIU, non possiamo che essere contrari ad una riforma iniqua che puzza di P2 e di rimando a Licio Gelli, ideatore del piano di rinascita democratica, che insiste sulla necessità di accentrare ed efficientare lo Stato. Il viatico del potenziamento degli esecutivi e lo svuotamento dei parlamenti rientra tra l'altro a pieno titolo nelle richiamate raccomandazioni del capitale finanziario europeo riguardo le presunte soluzioni per uscire dalla crisi. Chiarati i motivi ispiratori della riforma, il FIU motiva il no con una serie di pericoli per l'autonomia regionale e per la sovranità popolare. La cosiddetta clausola di supremazia fatta, secondo il FIU, per spogliare di ogni valore la legislazione regionale, l'aumento delle soglie e delle firme per le leggi di iniziativa popolare per il referendum e altro ancora. In estrema sintesi, è chiaro come il DDL Boschi fa sì che il governo diventi il vero e unico titolare sia del potere legislativo che di quello esecutivo, si legge nel comunicato. Questi sono i colpi decisivi con i quali si avvia un processo di disarticolazione degli ultimi residui di democrazia formale. Ciò che dovrebbe realmente essere riformato, insiste il comunicato, è lo statuto autonomistico sardo, inserendo i diritti linguistici del popolo sardo, oggi nemmeno menzionati, e dichiarando a chiare lettere che la Sardegna è una nazione capace di esercitare sovranità e autodecisione, qualora lo ritenessi opportuno. E ora ci spostiamo ad Alghero. L'Istituto Industriale ROT ha siglato un accordo con l'amministrazione comunale per portare avanti un percorso sull'alternanza scuola-lavoro per alcune decine di studenti. Sentiamo Sandra Sanna. L'alternanza scuola-lavoro prevista al Ministero della Pubblica Istruzione a Alghero si sta concretizzando in diverse esperienze per gli studenti delle scuole superiori cittadine. Dopo il reclutamento di una quarantina di giovani nei laboratori di Nobento, importante azienda che costruisce infissi di qualità nella zona industriale di San Marco e che ha inaugurato un apposito laboratorio, Noblab, dove gli studenti possono seguire i corsi di formazione, è ora la volta del Comune di Alghero. Protagonista sempre l'Istituto Industriale ROT che ha siglato un accordo con l'amministrazione comunale affinché 11 studenti possano attivare un percorso di apprendimento. I ragazzi hanno iniziato questa mattina, si sono recati nelle scuole medie di Via Malta e hanno effettuato il rilievo dell'immobile delle aree esterne, in modo da consentire al Comune di formulare un progetto di ristrutturazione. Altri studenti il prossimo 10 dicembre si reccheranno nella scuola di Via Curtis per un rilevamento topografico e piano altimetrico, per poi consentire ai tecnici comunali di progettare la riqualificazione delle aree degradate mediante la realizzazione di parcheggi pubblici. Il coinvolgimento, spiega l'assessore alle opere pubbliche Raimondo Cacciotto, ha da un lato finalità didattica attraverso le quali gli studenti possono essere coinvolti nell'attività lavorativa tipica dell'ente pubblico. Dall'altro forniscono all'ente un importante apporto finalizzato al censimento del patrimonio comunale. Ed ora ci spostiamo a Porto Torres perché è stata celebrata nella chiesa Madonna della Consolata la Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona della Capitaneria di Porto. Tino Tellini e Edoardo Fancello. Sentiamo. Porto Torres è stata celebrata alla chiesa consolata, di fronte all'autorità civili e militari, una messa in onore di Santa Barbara, un rituale che si ripete ogni 2 dicembre. Santa Barbara è la patrona della Marina Militare. Nacque a Nicodemia nel 253. Nel 288 si trasferì col padre in Italia, convertendosi al cristianesimo. Il genitore, non sopportando questo affronto, consegnò la figlia alla giustizia. Barbara venne decapitata, ma, la leggenda narra, quando la sua testa cadde, un fulmine incenerì suo padre. Da quando venne inventata la polvere da sparo, i locali delle navi in cui venivano stipate le munizioni vennero da allora chiamate Santa Barbara. Pio XII, nel 1951, proclamò Santa Barbara patrona della Marina Militare. Santa Barbara per noi è un momento di aggregazione, è un momento per dimenticare per un attimo, per una giornata, i gradi, le qualifiche. Siamo tutti colleghi, siamo tutti facenti parte di una grande famiglia. E ora parliamo di salvaguardia delle coste, dunque di ambiente contro l'erosione costiera. La regione mette in campo 11 milioni di euro, lo ha deciso oggi l'aggiunta su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, Donatella Spano. Le risorse sotto la regia dell'assessorato interessano 10 comuni a coste rocciose e sabbiose. Arbus, Cagliari, Pula, San Veromilis, Sinei e Porto Torres riceveranno gli stanziamenti per azioni sulle coste rocciose. La programmazione relativa agli interventi su spiagge riguarda invece Budoni, Cagliari, Capoterra, Badesi e Sant'Odoro. La protezione delle coste ha una valenza strategica molto forte per la Sardegna, sia per l'ambiente che per l'incolumità delle persone, ha dichiarato l'assessore Spano. Lo sanziamento per Porto Torres, per la messa in sicurezza delle falesie di retrospiagge nei litorali di Balai e Abagurrente e l'intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abagurrente è pari a 1.500.000 euro. Il marchio del Corallo di Alghero, quindi ci spostiamo nella città catalana, va avanti con nuove iniziative di tutela e di promozione. A breve il marchio sarà esposto al di fuori delle 17 botteghe che hanno aderito al programma. Lunedì un incontro fra amministrazione e operatori per definire nuove strategie. Sentiamo Marco Sanna. Il marchio del Corallo di Alghero prosegue la sua strada di affermazione a tutela della qualità dell'oro rosso, vanto dell'artigianato e della pesca locali. Il logo di certificazione del Corallum Rubrium sarà presto esposto con targhe in plexiglass all'esterno delle 17 botteghe artigiane che hanno aderito all'iniziativa. Il progetto guidato dall'amministrazione algherese ha dunque avuto un ottimo riscontro sulla base di una serie di programmi volti a tutelare l'autenticità del prodotto e la sua promozione come emblema della storia e della cultura algherese e immagine della stessa riviera del Corallo. Fra l'iniziativa in questo senso, il prossimo lunedì 5 dicembre, dalle 15 nella sala conferenza Lo Quartè, con l'assessore comunale Natascia Lampis, si metterà a punto un'altra serie di importanti passaggi del percorso organico e condiviso che coinvolge gli operatori del Corallo. Si discuterà del piano strategico di comunicazione e studio dell'immagine coordinata del marchio. In questo senso, l'amministrazione ha già provveduto ad avviare l'iter di affidamento del servizio attraverso la pubblicazione dell'avviso nel sito internet istituzionale del Comune di Alghero. Nello stesso incontro si parlerà del progetto CF Interreg Marittimo, della definizione delle azioni riguardante la promozione del marchio, che partiranno nel gennaio 2017, e di altre questioni ancora. L'incontro vedrà la partecipazione degli operatori commerciali e di partner di progetto, Agenzia Laore e Parco di Portoconte, le associazioni di categoria, con il coinvolgimento di tutti i protagonisti della filiera e in particolare dei pescatori del Corallo. L'emigrazione sarda in America Latina. Siamo alla cultura. Il tema dell'incontro che si terrà domani, 3 dicembre, a partire dalle 18 al centro commerciale Corte Santa Maria di Sassari. Nell'anfiteatro della Galleria sarà presentato il libro Verso Sud, storie di Sardegna in America Latina, dei giornalisti Antonio Muglia e Salvatore Taras. La serata organizzata dalla libreria Mondadori sarà moderata dalla vice direttore di Canale 12, Luca Foddai. E' stato presentato al pubblico il romanzo Grande Nudo di Gianni Tetti. L'autore è stato ascoltato da Ico Ribichesu alla fine di una serata emozionante davanti a un gran pubblico che ha affollato la sala delle messaggerie sarde. Vediamo. Presentato le messaggerie sarde è il libro Grande Nudo di Gianni Tetti. Sono molto felice di questa presentazione. È stato un momento... non mi aspettavo che... non mi aspettavo che succedesse quello che è successo. È stato un momento quasi mistico. Sono molto... sono molto contento. Sono molto contento. Da qui, da Sassari, so perché mi è già successo con gli altri libri, ma forse più ancora con questo parte un'avventura che adesso vediamo dove... vediamo dove andremo a finire, insomma. Ricordiamolo, la tua terza fatica letteraria... Andate a prendere libreria, poi scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate. Il gruppo speleologico sassarese compie 50 anni. È un'occasione di questo importante anniversario di fondazione. Il gruppo ha realizzato la mostra fotografica dal titolo 50 anni del gruppo speleologico sassarese, che sarà esposta unitamente alla rassegna di immagini, la Sardegna sotterranea, della Federazione Speleologica Sarda, presso il Museo Nazionale Sanna a Sassari, dal 3 all'11 dicembre 2016. L'inaugurazione si terrà domani, sabato 3 dicembre, alle ore 17. Le carte libre, viaggio negli archivi, nei luoghi delle colonie penali della Sardegna, nel libro di Vittorio Gazzale e Stefano Tedde, è stato presentato al Museo del Mare, a Porto Torres. Sentiamo. Porto Torres, le carte liberate, un viaggio negli archivi e nei luoghi delle colonie penali della Sardegna. Un interessante libro, scritto da Vittorio Gazzale e Stefano Tedde, presentato ieri al Museo del Mare. Le colonie penali, come la Sinara, nascevano alla fine dell'Ottocento per bonificare e rendere produttivi i terreni infestati dalla malaria. La presentazione del libro si è conclusa con una gradita esibizione di Piero Marras, che da questo lavoro ha composto 13 brani inediti. Le storie liberate, appunto. Abbiamo sentito per Canale 12 uno degli autori del libro, Vittorio Gazzale, lo stesso Piero Marras. L'aspetto più bello di questo progetto è proprio l'aspetto del recupero delle persone, delle storie, che è stato fatto tra l'altro da dei detenuti. Loro hanno vissuto questa esperienza di scoperta del passato e hanno analizzato queste storie di errori, di punizioni, di rapporti con gli agenti di custodia. Quindi per me è stata un'esperienza lunga, perché è durato sei anni questo progetto e diciamo che è sempre in progress. Questo libro è una grande miniera di spunti, che poi andava così musicato. Però come tutte le cose poi non semplici, poi è stata una cosa entusiasmante. Quindi sono contento di quello che ho fatto e spero che la cosa possa diventare il mio prossimo album insieme a un libro che sta scrivendo Vittorio. E torniamo in studio per la pagina sportiva. In occasione del decennale della nascita dell'associazione Progetto Albatros ha organizzato una tre giorni dedicata alla disabilità. La testimonia alla decezione è Cecilia Camellini, atleta non vedente, oro alle ultime Paralimpiadi di Rio. Vediamo. Per festeggiare il decennale della nascita dell'associazione Progetto Albatros è arrivata in Sardegna Cecilia Camellini. La campionessa paralimpica ha raccontato delle sue esperienze. Molto spesso quando si hanno delle difficoltà e anche problemi di vista così si pensa di non riuscire a fare le cose come gli altri. In realtà anche in quello che potrebbe essere un momento difficile si possono trovare tante risorse, qualche strada alternativa per riuscire nella vita e trovare soddisfazioni. Io ritengo che l'importanza dello sport vada vista a 360 gradi. Cioè è importante per una persona normale, quindi per un atleta olimpico come è importante per un atleta paralimpico. Ovviamente per un atleta paralimpico spesso sa significare l'uscita magari da un'esperienza negativa, da un tunnel, una sorta di rinascita. E' quello che poi appare attraverso le informazioni, quindi attraverso le paralimpiadi che abbiamo avuto il piacere di vedere in televisione. Io avevo avuto Pechino e non avevamo avuto tutta questa attenzione, invece finalmente un pochino di attenzione arriva dopo questi mesi così vicini a Rio, ma che continui anche per il prossimo quadriennio. Siamo molto contenti oggi di festeggiare praticamente il nostro decimo anno di attività e non c'era modo migliore per farlo che invitare due grandissime campionesse come Cecilia Camellini, che tra l'altro è una psicologa, quindi una collega, è Francesca Secci. Quindi siamo molto contenti di celebrare questa giornata speciale per noi. Il servizio era di Ico Ribichezo ed era anche l'ultima notizia per questo telegiornale. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque io mi fermo qui. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione attraverso i vostri smartphone o tablet con wifi.tv. L'informazione di Canale 12 torna domani mattina alle ore 7 come di consueto. Non dimenticate la striscia informativa delle 14.30. Ora spazio alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Kronos. L'appuntamento con il telegiornale con me è alle 19.45 di lunedì. Io vi ringrazio della vostra attenzione, vi auguro un buon weekend e un buon proseguimento di serata. Arrivederci. 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 Grazie a tutti